Allora raga, bella a tutti, qui ci sta i tuber, oggi siamo in questo nuovo video sulla mia Nintendo Switch Allora, io sto registrando da qua, indovinate perché? Praticamente c'è la Playstation, il controller messo nella scatola pronto per essere spedito Allora, praticamente, io sulla Nintendo Switch ho scoperto un glitch, ovviamente vale per tutti Che prende come avere la prima persona, ma la prima persona realmente, proprio prima persona non proprio Però è un concetto, un concept, che secondo me, secondo me questa prima persona la metteranno di sicuro, ci scommetto Perché non proprio, però, cioè, se si nota, guardate, io per esempio ho la visuale e giro Un secondo Scusate Allora Guardate Prima persona Dice cosa può essere questa, prima persona, non può essere altro Cioè È un bug, però, secondo me Questo potrebbe, potrebbe preavvisare che in un futuro aggiornamento, magari che so, una patch 6.50 Che ne so, 6.40 Magari ci sarà, ci sarà magari questa, questa cosa Cioè, guardate raga Guardi, faccio vedere Attiviamo il Joy-Con Se voi notate È tipo GTA 5 È tipo GTA 5 dalla Nella, o tipo il padrino 2 Se voi ci avete giocato Secondo me la prima persona sarà tipo questa Cioè, alla fine si Cioè, comunque, si può vedere in prima persona Ci sono dei punti Per esempio, se volete vedere in prima persona Fortnite Proprio così Dovete praticamente andare O sotto le scale Tipo sotto le scale E mettete tipo dietro Dietro dove c'è, dove ci stanno le scale Praticamente vi fate Come si può dire Vi fate un Vi mettete lì E prendete in prima persona È un glitch proprio Questo qua non ne hanno mai risolti Non capisco il motivo Sono risolvibili Comunque, secondo me Questo qua porterà un aggiornamento Che non durerà la prima persona un giorno E lo spero comunque ci sia Comunque, raga Era soltanto un glitch Questo qua spero che il video vi sia piaciuto Bella